Credo che sia la migliore decisione per me, per la mia carriera e per l'ora che sono ora. Sono pronti per dare questa squadra e questa organizzazione tutto che ho avuto. Sì, conosco Samadja. Abbiamo giocato nella stessa scuola, non abbiamo giocato qui insieme. Mi ha detto che era una buona esperienza qui in Italia. Sì, conoscevo bene Samadja perché siamo stati insieme, abbiamo giocato insieme al college. Mi ha detto sicuramente mi ha spinto a firmare per Pesaro e mi ha detto che se fossi venuto qui sarebbe stata sicuramente un'opportunità molto importante per me per crescere ancora e per fare del mio meglio. Per vincere tantissimi giochi che è possibile, come ho detto, per essere migliore ogni giorno con la squadra. Solo che siamo tutti sulla stessa piazza, mi sento che non abbiamo nulla in fronte di noi per fare questo, ma solo per essere migliore. Credo che se facciamo questo, potremo arrivare in Europa. La risposta è semplice ma al tempo stesso importante. Sicuramente il mio obiettivo è quello di vincere le più partite possibili, di trovarci bene come team, come squadra e quindi sicuramente dare tutto a noi stessi e far divertire anche i tifosi. Come ho detto era di sicuro la scelta più importante, la scelta decisa in tempi non sospetti. Poi chiaramente lui ha giocato fra le altre cose la Summer League molto bene, quindi è andato su tutti i tacquini NBA e pensavamo di non riuscirci più. Le ultime ore direi che noi stavamo andando su un altro si è reso disponibile, o meglio, quantomeno ha detto ok, voglio fare l'esperienza europea e a quel punto siamo intervenuti con una offerta che non poteva rinunciare. La squadra è completamente ancora incompleta perché manca lui, perché Moretti non è ancora al 100%, quindi la strada è lunghissima. Ovviamente fa molto molto piacere vincere, battere anche avversari prestigiosi e quindi siamo molto felici. Ma da qui a dire che di sicuro possiamo dire, come ha detto Luciano, abbiamo speso molto. Venite al Palazzo e abbonatevi per due motivi. Uno perché altrimenti non riuscirete a vedere la squadra perché speriamo di fare sold out con gli abbonamenti e quindi chi non sa buona credo e spero che faccia fatica a vedere la spartita. E due perché ci state vicini e abbiamo bisogno dopo un anno veramente, veramente difficile per tutti i motivi che ben conosciamo.